Se si desidera aggiungere residenti in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Quindi fare clic su Aggiungi nuovo utente e inserire un nome. Scegliere ora il piano e la porta di accesso del residente. Fare clic su Attività e utilizzare il pulsante con la freccia accanto alla dicitura. Autorizzato per selezionare le attività che si desidera autorizzare a prenotare. Quindi fare clic su Aggiungi una credenziale, selezionare il tipo di credenziale, immettere il codice che appare sulla credenziale, e scegliere il colore corretto. Una volta completati questi passaggi, è sufficiente fare clic su Salva e ripetere l'operazione per gli altri residenti. Grazie per la visione!